Ciao, se stai cercando gli appunti, le dispense del professore di bilanci aziendali, del professore Torcivia, Studi di Economia e Amministrazione Aziendale L18 a Unipa, all'Università di Studi di Palermo, Facoltà di Economia, guarda attentamente questo video perché sto per mostrarti come accedere a una valanga di dispense, di appunti del professore per superare l'esame di bilanci aziendali. Quello che vedi è la schermata di appunticondivisi.com, ovvero il primo portale in Italia che permette la condivisione tra studenti universitari di materiale didattico, quindi domande d'esame, dispense, appunti, slide, registrazioni audio delle lezioni, specifico per la tua università, facoltà e corso di studi. Quindi cliccando sul link qui sotto o andando su appunticondivisi.com, ti basterà a registrarti gratuitamente e dopo aver fatto l'accesso, cliccando su Cerca File, atterrai su questa schermata qui. Ti basterà a inserire la materia e la tipologia del file, perché questi dati li hai inseriti già all'inizio, e cliccare su Cerca File per ottenere tutti questi risultati qua. Come vedi abbiamo Bilancio 2013, Cantine Sette Soli più Nota Integrativa, Cantine Sette Soli in redazione Soci, Bilancio 2013, Cantine Sette Soli in redazione CDA, Cantine Sette Soli in redazione il collegio sindacale, più tutta una serie di video. Qui ci sono altri file di bilanci aziendali, un altro video come questo qui, più altri file di bilanci, e poi ci sono altre pagine, se clicchi sulla pagina 2, vedrai Cantine Sette Soli, Verbale Assemblea, Cantine Sette Soli, Bilancio 2002, Bilancio 2005, dato appunto dal prof, questi sono i bilanci che il professore dà per superare l'esame, ancora altri video, poi cliccando sul 3 avrai Cantine Sette Soli, Bilancio, come vedi qui è stato scaricato una volta, Cantine Sette Soli, Bilancio 2008, 2006, azienda Cusumano, Gruppo Randazzo, Gruppo Randazzo in redazione finanziaria annuale 2012, importante perché il professore a lezione fa sempre esempi su questo bilancio e le chiede agli esami, questo è fondamentale, poi ci sono altri video, insomma, accederai a tutti questi file che ad oggi sono presenti, nel momento in cui sto facendo questo video, quindi magari poi ti ricolleghi tra lo server, lo vedrai tra un mese, e ci saranno altri file. Mi raccomando, appunticondivisi.com, clicca sul link qui sotto, registrati, e se il video ti è stato utile o ti è piaciuto, clicca mi piace e condividi. Se hai dubbi o domande, lascia un commento qui sotto. Ciao e buon esame!